E signori che il team season 1 capitolo 1 sia carico e prontissimo per andare a fare la prima vittoria nella nuovissima season Che alla fine è la vecchissima season Ma prima di questo io vi ricordo che dopo l'aggiunta di Scar, Pomp del Nonno, Slurp, Succhi, Succosi e qualsiasi altra arma OG Fortnite ha cambiato pure il negozio oggetti Ma una delle cose che ancora non è cambiata è il codice ferro Ricordatevi di inserirlo tutti sempre per sempre nel negozio oggetti per il vero e massimo supporto Anzi, muah, vi do pure un bacino virtuale a tutti quelli che lo faranno Grazie di cuore, ora godetevi il video Primo land, signori, corso commercio e signori, ho già trovato l'assalto blu che è figata raga, bellissimo Let's go, ragazzi, oggi sono poco attuale Pure il tattico No way raga, sono contentissimo Io sono contento per te ma non ho queste armi purtroppo io Pomp del Nonno, pure no ragazzi, spettacolo, spettacolo, sto male, sto male Raga, inizio a aver caldo, è una figata incredibile questa season ma non ho shield raga Ciao, ciao, piacere No raga, no, no way raga Sto godendo, sto veramente bene, sono felice di tutto questo Ma puoi trovare shield, gioco Poh, ma tagliatelo il cespuglio però anche tu, scusa eh Ma perché me lo voglio, no, me lo taglio, non mi faccio la doccia, non mi faccio i peli, hai capito? Che schifo, che schifo Pomp del Nonno Buonissimo, abbiamo un doppio Pomp del Nonno ragazzi Siamo messi già bene, tranne per quanto riguarda i shield I shield, i shield sono introvabili Allora, sparo un po' di queste cose Che se non ci posso vedere Che sei stato simpatico, sei stato tu Io ho guardato posizione, non ci vedono gli altri Non possiamo vedere anche noi per loro Raga, un attimo, scusate, ma silenzio, abbiamo davanti gente Fate con calma, esatto A cominciare 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 Stanno qua da me, ragazzi Guarda davanti, guarda davanti Sì? Ho distrutto uno, ha atterrato uno, ragazzi, sono forte Ok, ho distrutto uno, ho morto uno Ma le mani non c'è spuglio, meglio Ok, fai anche lato uno Noi, dai, che ref è dietro, 13 white Oh mio Dio, bravo Ragazzi, la mia arma Ragazzi, ho trovato la mia arma Quella con cui prima ho fatto la mia prima vista Ragazzi, restatemi invece di dire che avete dato la mia arma Vero, vero, vero Io ragazzi ero super tryhard perché avevo il coso, il chug, super mega bellissimo Allora, ragazzi, piano Piano, let's go Doppio chug per noi Oddio Ho già un po' di shield Oddio Tieni questo medikit se lo vuoi, può E tienilo come oro Non meditare che se ci toglie il chug, guarda Ti ho visto a ferro che ti è venuto un colpo Comunque, signori Siamo tornati nella season 1 capitolo 1 Io vi ricordo il codice ferro per il massimo supporto Sempre per sempre nel negozio oggetti, raga Let's go Siamo ufficialmente tornati Ci stanno nuove persone davanti a noi Vediamo di andare a distruggerle, raga Let's go, baby Ho anche un lancio granate Dove sono le persone? Ahia, stanno là in fondo, ecco Dove? T'hanno risposto a dovere Stanno là, raga, e occhio Lo hai viste, lo hai viste Sembrano abbastanza forti Vai, gli spammo con quella super arma Non esiste la parola forte nel mio vocabolario Sopra, 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 sopra 35 Craccato, craccato Vado a pushare, ferro, ti aiuto Un HP, un HP Dove sta? Morto, morto, morto No Wey, ma non riesco a killare 1 Nuove persone da terra, eh Ti dico solo Uno l'ho veramente disintegrato Non so come ancora vivo Ok, ma ha tirato un hit a su Ma raga, c'è il popo a quello epico Esatto, è per questo che mi ha ucciso Cioè, mi ha tirato un colpo Ma ci do in 15 di vita, fra Dov'è, raga? 57 è ucciso Let's go, fermi Ce l'abbiamo Il pompa è epico No, raga, però non so Se è pompa del nonno O questo pompa, raga, onestamente Ah, tu prendi ne uno Io prendo l'altro Visto che il mio pompa è il peggiore del gioco In questo momento Dai, devi tenere quello epico, signori Dai, diamo spazio alle cose super oggete, raga C'era un altro tizio qua dietro, eh Non so se l'avete visto Sì, io l'ho sparato Comunque, se posso dire una cosa, raga Il pompa viola, fa schifo Quello lì, quello che avete voi, fa schifo Davvero? Sei sicuro? Sì, a me fa 74 Ma guarda, io provo un attimo a tenerlo Perché mi spia Ma si è 74 in testa? Avevo 200 di vita Ma l'ho lasciato con 15 in un colpo Sì, magari ne avevi 12 di vita Raffè, Raffè, sta dicendo struttare Ecco, sta dicendo struttare perché lo troviamo Perché lui è lui Ma che me frega Sto bene col mio pompa del nonnino Comunque, raga, funzionerà pure il double pump Non lo so, vedremo in altri video In ogni caso, ragazzi, sicuramente tra poco lo provo, ecco sì Detto altri video, me lo proverò tra pochissimo Like, commentate con la vostra norma preferita di questa season, raga Si va a ripusciare Perché dobbiamo fare la nostra prima vittoria E un sacco di kill, raga Con calma, ciccio, con calma Che qua sta droppando un airdrop adesso Io direi che prima abbiamo l'airdrop e poi busciamo Eh, dove sta l'airdrop? Esatto, dove l'hai visto? Oh mio Dio, sta qua davvero Fermi tutti No, 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 lo devo prendere io Non ho capito nulla Io piuttosto rifto, ma lo devo prendere io Perché devi riftare? No, ok, ci stanno altre persone Quindi con calma andiamo pianino Che non voglio sicuramente morire Questo qua si è fatto il rift da solo, ragazzi Ma è tutto matto, eh Con calma che ci stanno persone Ok, sì, da solo Che capo vuoi, scusami C'è spugnetto Raga, guardate cosa provo a fare con l'airdrop Raga, altro che airdrop La persone Potete venire però per favore Un attimo Vado a pusciare quello, va No, 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 no Non pusciare Wait a un attimo Vai con calma Dimmi che ci sono delle cure in questo airdrop per favore Va, guarda, non l'ho ancora aperto Dico soltanto questo Ok, fermo Oh, no, no Signori scar Signori abbiamo trovato lo scar Oh mio Dio, ho super atteso Fermi, fermi tutti Allora Ci sono persone davanti, ragazzi Ma lo siamo Raga, stanno andando Ma perché c'è sempre da solo a me indietro, scusatemi Non lo so Ma raga, ho trovato lo scar Voi non avete capito proprio nulla Fermi Vediamo Ok Vai, sto sfumato, craccato Morto, morto, morto Eh, uno di vita Dove? L'ho ucciso io Ok, sopra, sopra 43 Ok Comunque gli avevo fatto 74 A proposito, Po, è tutto te, tutto là Guarda, non lo so, eh 22 craccato Buono comunque, è 22 col pompa viola C'hai ragione, mi sa Eh, lo so molto meglio 22 di nuovo Vai, sto spammando 22 morto Ucciso, mamma mia signori Let's go, let's go, let's go Raga Chi è che vuol far cambio di sto pompa Per il pompa del nonno? No, io mi fa schifo Non lo prendo Prendendo me lo vuoi Guarda, Riff Te lo lascio provare a te Così mi dai pure te la tua opinione Ma per ora, raga Onestamente Forse è meglio il pompa del nonno Veramente, raga Ragazzi, ma è un pompa pesante Comunque, se mi troppi dei colpi Posso prenderlo io Ok, dai Tieni dei colpi di tutto Comunque, raga Let's go Seconda kill per me Sette totali di team, raga Se dovessimo fare la nostra prima vittoria reale Con ben 20 kill, raga Ve lo gioco e che scoppio Cioè, vi regalo qualcosa Un bacio virtuale Basta Ragazzi, regala qualcosa di serio Grazie Signori, nuove persone Quattro assalti Springs e corso commerciale Uno dei posti dove andavo più spesso Nei tornei e altro Ok, i tornei Sono forti Sono forti Sono forti, sono forti E io ho uno scar, però Sai cos'è più forte di loro? Uno scar leggendario Sono sicuro Certo, raga, non ho ristato, non sto andando via Cioè, in realtà C'è l'ho nel mirino, c'è l'ho nel mirino Ma perché non lo prendo? Ma raga, guardatelo Lo prendo io con lo scar Non lo prendo Ma cosa sto facendo? Ma non potevo prenderlo neanche io Comunque, Riff, da te ci stanno persone, eh? Sì, hai voglia Gli metto la piramide nel box Muro preso pure No way Dove è vero? Full boxato Non lo riesco a prendere Continuo a buildare Troppo questo, raga Morto, morto, morto Let's go, Mary Bravissimo Comunque, è incredibile come arriva Poe e prende la kill Cioè, è assurdo, raga Cioè, riesce sempre a stillare Mi state rubando tutto il loot E mi viene Le ruba tutte lui, raga Assurdo Signori, prossimo Rift Prossima destinazione Burgo Vislacco Signori, altre persone qua davanti No, raga, un team intero Stiamo attenti per il team intero Qua, qua davanti Da sotto, dappertutto Dentro, dentro un rubino Dentro un rubino No, no, no Voglio non laserarci Ai, ai, ai Ma fatto male No, non è vero Bomb Bianco, bianco Bianco Ucciso Ucciso Raga, sinistra Sono ancora tanti, raga Quindi stiamo un attimo attenti Perché Io non ho vita Perché non ho vita Com'è possibile Non lo so Ok, dove precisamente Oddio Ah, ma sono proprio qua Lasero, lasero Ha uno di vita Ragazzi, un altro team mi sa No, raga, erano degli oggi incredibili Questi Oddio Ma raga, ma lo scar leggendario È fotonico, raga È letteralmente fotonico Devasta le persone, poverelle Fotonico non l'avevo mai sentito Oh, quello lì è morto Let's go Let's go, baby Mamma mia, signori Siamo troppo fin, signori Il nostro team è tornato al 100% Raga E altra cosa che vi anticipo Torneranno brevissimi i provini Quindi iniziate a scrivere il vostro ID nei commenti Perché potremo già scegliere qualcuno di voi Per poter iniziare a fargli il provino Raga, nuovo team là in dentro In quella casa L'ho visto, l'ho visto, raga Laseriamo di Scar Andiamo di Scar Ma occhio che dovrebbero avere cecchini, forse Scar silenziato Blu Non c'è mai stato questo su Fortnite Come no Come no, infatti Blu Blu c'è mai stato Viola De OG6, perdonami Ma infatti Viola c'era Che blu Potreste darmi una mano Perché io ho fatto 36 a 1 Ma mi hanno un po' laserato Dato che ero da solo contro 3 22 è terraccato Eh, ma raga, sono forti Oh mio Dio, ho terrato Ma sono forti fino a che non arriva Refe a sparare Bravo Refe Così ti voglio, allora Vai, si pusha, si pusha, si pusha Ok 30 Io ho preso l'Aigo Oh mio Dio, ho distrutto uno No, vabbè, non l'hai distrutto In realtà l'ho distrutto io Però ci sta Mamma mia, buo E sto veramente buono Da me c'è l'ultimo, eh Da me c'è l'ultimo, raga Ok Allora Io vorrei solamente delle cure, raga Perché non mi sento a mio agio Senza tipo degli shieldini Ok, craccato, morto Let's go Mamma mia, raga, let's go 15 kill per noi, raga Ma che partita sta uscendo Ve lo so che stiamo demolendo la lobby Signori, cassa è pure un caccia Guarda, vabbè, un make it Se qualcuno lo dovesse volere Anche se non credo, raga Ho il caccia Da ora sono infermabile, raga Io mi ricordo che ero tipo il king dei cecchini Quando c'erano i caccia E con i no scoop Quindi tranquilli, raga Adesso il vostro ferro demolirà tutti E altra cosa, signori, mi raccomando Ok, ma prima, signori, voi Mi raccomando, inserite il codice ferro Nel negozio soggetti per il vero e massimo supporto Beccatevi sto bacetto in virtuale Incredibile, bellissimo Che probabilmente non va a arrivare mai a casa Però grazie a tutti per il supporto Inseritelo, mi raccomando Raga, no, no, no Gente, 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 gente Oddio, odio, 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 odio Odio, 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 da ferro, da ferro Oh mio Dio Oh mio Dio, ragazzi, no Lo scar leggendario letteralmente è troppo più forte, raga Mamma mia, raga Ci sono l'ultimo qua 108, 140, no, no, no 144 è demolito, raga Questi nevano per fuori di shield Missile guidato? Ah, no, ok, missile normale Ragazzi, ci fosse stato un missile guidato Sicuramente è turner anche quello in questa season Raga, mamma mia, ve lo giuro, raga Mi vengono dei feels impressionanti Mi sta piacendo troppo giocare Ah, e a proposito, raga Non posso guidare il camion Questa cosa mi turba Posso solamente spaccarlo Il fatto che non possiamo più guidare le macchine Un po' mi triggera, ok? È particolare, triggera un sacco Però, onestamente, va bene così L'importante era la season G L'hanno fatto, quindi Già va fin troppo bene Grazie fortnight Oh, raga, Skybase OMG Sei serio? OMG, ragazzi Ragazzi, ragazzi, lasciamoli vincere Lasciamoli vincere No, li butto giù, col caglio Sì, sì, brutto Sapete che cosa vi dico Già, per noi Allora, ah no, sono là sopra Raga, questo potrebbe essere uno dei fight più tosti Perché dobbiamo riuscire a salire No, non era una Skybase L'hanno fatta solamente per salire Ma ci sono le jump Ah, sì Si pusha No, 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 devi muoverti proprio Ci sono le jump Senti il ferro che l'ha appena usata Team da noi Pua, 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 devi far veloce Eh, sto più veloce Così come faccio, scusami, eh Mamma mia Una domanda di dove cavolo stavi Occhio, ne fai piano Stai veramente easy 50 80 Ma ragazzi, sono easy Ve li fate easy, dai, su Meno male che ho un lanciagranate clamoroso Ma, ma ha distrutto Occo 2, ma ha distrutto Mio Dio Ma, vabbè, boom out Pua Arriva e salvala a tutti Certo che, certo che arrivo, guarda Ma ragazzi, ma no 58, graccato 1 HP Ma ragazzi, ma chi è? Di fare la mossa Rianima a refe Assolutamente C'è un altro team da me C'è un altro team da me Per questo devi venire a restare me Perché in due non ce la fate, raga Confermo Chi è che ho lanciagranate? E soprattutto Che cacchio faccio? Ok Oh mio Dio Ferro, ferro Servamente fortissimo No, no, no Praticamente finito Raga, raga, raga Ma non mi rimano Niente finita Stanno restando Dove sono? Qua sotto, qua sotto L'hanno già animato E niente sopra ancora Quanti ce n'è sono? Madre, madre mia 23 Tutto un altro, 70 34 Ho 1 34 Anch'io 30 Di nuovo Aspetta, aspetta, aspetta Fammi ricaricare Anch'io Devo ricaricare Ok Senza scelta Senza scelta Non tirare fuori ancora Il lanciarazzi Che mi mette ansia No, invece tirano fuori Ma certo che lo tiro fuori Alciarazzi Sono il più forte del mondo Guarda 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 Basta Cosa è il più forte del mondo C'è una pippa Mamma mia Ti stanno vedendo bene Due partitori 32 Bravo Aspetta Aspetta Faccio ancora Faccio ancora Dammi un attimo Mamma mia Raga Ma è tostissima Questi sono i più forti Veramente la mappa Se chiediamo questi Non dico che Mi ritraiglio Smitraglialo lì Ma che lo devo smitragliare Mamma mia Perché lo smitragli 324 No way Stavo per sparare Dalla finestra Occhio Mamma mia Dovremo tipo prendere la scheda E fare in realtà andarci Dimmi che hai col pirazzo Ti prego Fermo No 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 way Non riesco a prendere la scheda Veramente Eh no Ce l'hanno loro Ce l'hanno loro È lì dentro con loro Non puoi farci nulla Fermo Questi invece possono fare qualcosa Forse No non stanno facendo nulla Vai grazie Dimmi che ragazzi Dimmi che ragazzi Grazie Grazie Sua destra Dice Ucciso Bravo L'altro starà Raga ora la scheda Ora potete prenderla No 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 Possiamo Ok Sopra sempre Sopra 17 Con l'altra 36 con i naigh Da te Po Sta andando via Stando via Craccato Craccato Una capilla Ucciso Ucciso in volo Oh mio dio Ci stanno due persone Dobbiamo provare a lotarle Aspetta aspetta Vado a prendere la scheda di ref Raga togli ancora uno La 6 Potete ributtarmi qua Sì Oh mio dio raga Devo provare a kill Alcuno ha il medikit Tu hai un medikit No zero totale raga Ti pare No 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 Proprio nulla Mamma mia raga no Ve lo giuro No è morto Oddio Oddio che salvataggio Mamma mia Cosa è successo No non hai visto Chi ha visto il video Cioè chi lo sta vedendo Capirà Ok io ti dico soltanto una cosa La stanno fightando di nuovo E sono Sono messo male Abbastanza eh Più o meno Diciamo Raga comunque Comunque la siftoria Ancora uno Potete ributtarmi qua sopra Oh c'è gente pure là sotto Veriter Io più che altro Non ho cure Non ho medikit Non ho nulla No neanch'io Neanch'io Zero un medikit No zero Dobbiamo provare a andare A restare là Ci proteggiamo Ferro ferro È solo È solo Vieni andiamo Dov'è Lo cechiniamo Ok qua sotto Allora te lo dico Occhio Non puoi morire Non l'ho craccato Ok Morto morto Scendi Ok in caso scendi L'hai ucciso ne Sì sì L'ho ucciso Aveva qualcosa di buono Eh zero cure Fantastico pure lui Neanche medikit No ragazzi Ma che palle Non si trova nulla Signori Dieci persone rimaste Ventidue kill Per noi Poi abbiamo fatto il devasto Scherzo Anche Terry Avete fatto il devasto Con noi scusa Un attimo Tenerti fuori Raga poi dopo vediamo Quanti assist ho fatto E perdiamo Va bene Raga ventidue kill Di squadra Vi voglio dire Vado Oscar No 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 È veramente assurdo Allora comunque Ultime persone rimaste Io vi ricordo ancora una volta Codice ferro ragazzi Per il vero e massimo supporto Like e iscrizione Nel canale se ancora non l'avete fatto Perché usciranno dei contenuti Veramente folli in questa season Ma ora Pua ci stanno dei tizi da sopra Ci possiamo prendere like Sei sicuro Vuoi rischiare così tanto È l'unica Non è rischiare Dobbiamo per forza avere like Dimmi che hai trappole Voglio delle trappole Ti prego Ne ho una in realtà Ma le so usare molto bene Anch'io se permetti C'è un chug C'è un chug Che si può comprare Nelle bancarelle Vai fattolo tu Nelle bancarelle del pisce Aspetta Oddio aspetta che stanno costruendo là Due ce ne sono Muoviti Pua Arrivo Puoi prendere anche te I'm coming I'm coming Corri 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 Allora guardali là Occhio po' Quelli li dobbiamo killar Sì vabbè Guarda come se la scende quello Stanno là tutti gli altri player Prova a check inarli Tu prova a spammare un po' Con il lancia granate Per favore un lancia razzi Esatto bravo Esatto dimmi che hai razzi poi Ho check inato uno 86 Bravo Anche da là Anche da là Da là dove? Eh da Davanti Eh sì Non vorrei Mi sono provato a check inare Non so se avete notato C'è un tipo là in fondo Aspetta aspetta Vado a prendermi il loot del tipo Che c'è un tipo che è morto Eh mi serve il loot Scusami però mi serve proprio Ok stai molto attento Pua per favore Ok niente L'ho finito Non aveva nulla Fantastico Allora riesci a spammare un razzo? Dove? Là? Tiralo ora Là si sta curando il tizio Ok sì 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 Tiralo un altro Tira un altro Lo cechino No way per un pelo Ok diciamo di bianco Bianco A quello qua sopra? Sì sì A quello lì che stai sparando tu Questo qua Sopra Ok Occhio però Sono due Quelli player Occhio Sono bravini questi qua eh No ragazzi ma voi non capite Io veramente sono troppo teso Perché la voglio vincere Ah Mamma mia Mamma mia Mamma mia Allora Riff Consigli Cosa facciamo? Niente raga Tanto io sono inutile L'avete detto pure voi Quindi va bene No non è vero Stavo scherzando No no basta Se è il più forte del mondo È Pua Ferro è il più cristone del mondo Io mi ritiro Basta Raga questi qua sono forti Allora Pua se sei più forte del mondo Però sei più forte tu No no infatti Andremo a vincere sta partita Ma sai cos'è? Che poi non è più forte del mondo Perché è più forte del mondo Sono io Oddio Scherzavo Oddio Oddio Ok bianco bianco No sono fortissimi Sono veramente E' fenomenale questi qua Sono fenomenali L'ho ucciso C'è uno spasso Ferro 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 sono safe Ferro sono safe Fermi per risale Ferro Oddio corro Fermi tutti Ragazzitti Saremo due contro due Perché l'ho killato questo tizio Fermi tutti Dimmi che curivi Non lo sai qualcosa No tre team Siamo due contro uno contro uno O mini Non so se darteli in realtà No no ce ne ho i mini Ok No più che altro Grazie li hai No C'è più che altro Li ho anche io Per il lancia granate Vado È vinta ragazzi Non siete stupidi è vinta Uno Steinheig Uno Steinheig E l'altro starà Ok fermo Sto provando a spammare quel tizio Si vede che non sei bravo A usare queste cose Te lo dico Ma vai a quel tal paese Infame Ah io più che diritto L'altro Steinheig Però non so cosa fare Cosa che è successo raga Cosa avete fatto C'è uno lì che ci sta cechinando Dove Dove Qua sopra Eh no 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 tranquillo Mi puscia No come ti puscia Devo venire Devo venire No Non devi venire Signori L'ho mangiato Stai tranquillo Stai pure nel tuo Guarda C'è un po' di un cecchino adesso Wow Oh mio dio raga Ok è forte È forte È molto forte Ferro stai attento È molto forte Sai cosa vuol dire essere un pollo Pua Bastava veramente essere due contro uno Credo che abbia fatto uno scopo Mentre saltava col cecchino Ti dico Non è so che ti dico Io lo faccio pure io No non è vero Let's go Porto da solo Pittaria Ma volevo un po' divertirmi Volevo godermela Signori Prima vittoria reale fatta Devasto raga Quante kill abbiamo fatto Abbiamo fatto tipo 25 raga Ma di cosa stiamo parlando raga Fermi Statistiche partite Quante kill avete voi Io non ho 12 9 E 9 e 21 ref Le lo dirò Dirò quanti assist ho se vuoi Va bene Dai va bene Avrà tipo 2 o 3 il signor ref Mi sembra di aver ricordato Quindi Però anche 8 assist Vabbè non fa nulla 25 kill win Like iscrizione Codice ferro sempre per sempre Nel negozio oggetti Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao